Sì, no, ma soprattutto, io dico, fin dall'inizio era stato detto riproporremo il modello Emilia e temo impeggiorativo che l'abbia riproposto, perché io voglio ricordare che in Emilia non sono ancora stati dati a oggi i soldi per ricostruire a molte persone, siamo al 50% fra pubblico e privato, perché c'è una lentezza nell'avanzamento lavori dovuta al fatto che il pubblico non ha messo persone che guardano le carte dei privati per l'avanzamento dei loro lavori, per cui non gli vengono dati i soldi, c'è gente che è ancora fuori dalle loro case e non tanto nei container, sono magari in affitto in altre case o sono da parenti, ma non sono potuti tornare nella loro. La gente è arrabbiata, minimo che è arrabbiata, perché va bene il volontariato e la passione delle persone che aiutano, ma noi non possiamo avere uno Stato che si basa sulla bontà degli italiani con un pubblico totalmente assente, che addirittura dovrebbe tradursi in azione politica. Ma dovrebbe tradursi, certo è la cosa agghiacciante, però che in questo caso è l'esempio che c'è gente che paga le tasse, paghiamo tutti noi le tasse, via mettere a posto, va bene che ci sia il privato, va bene il privato che manda il ragazzo a studiare, ma dovrebbe essere ciò che il pubblico. Ma ci vorrebbe lo Stato.